ciao raga come state buongiorno a tutte e buongiorno a tutti nuovo video chiacchiere come va chiacchiericcio io niente dunque questo video per parlare con voi ma soprattutto per farmi in compagnia io e voi allora dunque oggi stavo facendo colazione come sempre tutte le mattine sto guardando il video di rita cosmetica sto guardando proprio in questo istante in diretta se sentite che non c'è audio è perché ho tolto l'audio perché sennò non riesco a parlare con voi se c'è l'audio di un altro video quindi no però intanto sto guardando rita il suo video che apro insieme a voi la beauty box di look fantastico il mese di aprile e niente e quindi non lascio guardare il nostro video mi sto piacendo molto grazie anche rita ciao rita grazie rita che guardi tutti i miei video un bacio grande così e nulla stamattina ho fatto dei sogni bellissimi ma un po confusionali come sempre perché sono molto confusionali quando faccio questi sogni erano colori ma non mi ricordo bene cos'erano vabbè una comment e nulla oggi è lunedì mi pare si oggi è lunedì aspettate guarda la computa perché sono computa qua di fronte ok si oggi è lunedì 8 aprile ok va benissimo e sono le precisi sono le 9.45 va bene dunque che dirvi finalmente era ora di farvi questo video lo sto facendo vedo se vedo se arrivo mia nonna perché poi mi sposto in camera e vi dicevo mi sto dimenticata cosa volevo dirvi vabbè non ci saranno tagli perché sennò non vado avanti cosa mi stavo dicendo fatemi pensare ah ecco non ho idea di che cosa vorrei fare stamattina ma ci penserò su piano piano e nulla tanto per vivere una ragazze e ragazzi miei ho deciso di fare più video anziché solo con il telefono con la videocamera perchè penso che si vedano meglio sono più belli da vedere ma anche perchè secondo me vabbè anche uno lo può fare col cellulare ma secondo me la telecamera li fa vedere meglio scusate il background dietro di me ma sono in cucina e spero che la cucina mi non vi dia fastidio perchè adoro fare i video in cucina si vede meglio tutto e si capisce meglio tutto ciao nulla fatemi capire fatemi non capire come si può dire ditemi voi la vostra se si sente bene questo questo video se si vede bene io credo di sì lo so in fase di monti di montaggio perchè altro non è che lo monto lo metto su un programma di montaggio però poi non taglio nulla lo sincronizzo l'audio vabbè già sapete come fanno queste cose sincronizzano l'audio per far modo che senta meglio l'audio ho già sentato tutto in fase di registrazione video e voglio solamente anzi l'audio l'ho già sentato anche dal portacamera però voglio che si senta bene anche tutto in fase di montaggio tutto lì nella sincronizzazione del montaggio non so ancora come funzionerà però voglio vedere se funziona non ne ho idea perchè ho scaricato un programma per vedere sempre di windows movie maker ma stavolta molto in versione aggiornata e voglio vedere se funziona non ne ho idea nulla questo video spero che questo video vi piaccia perchè adesso andrò a lavarmi la faccia e voi venite con me non lo so ancora cosa farò vediamo anzi la faccia però nel secondo momento ma prima però voglio come si dice parlare con voi allora ieri notte ho guardato poca roba in televisione perchè c'era poco altro roba da guardare sì è vero non ho lavato la faccia e l'avete anche capito comunque vabbè dalla faccia disastrosa che ho stamattina come sono messa io stamattina appunto il mood, il casarismo che ho comunque non ce ne prega niente anche se non ti lavo la faccia chissà ne frega però vabbè nulla comunque ieri è stata un video, una giornata, una serata un po' diversa perchè c'era poca roba c'era un film ambientato sempre in Sicilia sulla mafia ma vabbè dettagli non l'ho guardato perchè volevo dormire poi ero stanchissima anzi ho lavato i piatti ho lavato tantissimi piatti anche le pentole tutto sono anche da lavare i fuochi a disfettare i fuochi perchè ogni volta che noi cuciniamo si fa un pastrocchio mia nonna anche se avevo 81 anni vabbè sapete bene che anche se cucina un po' si sporca come d'altronde succede in tutte le famiglie italiane ma anche non e quindi si sporca tantissimo quindi ho avuto la necessità di pulire tantissimo dei fuochi non so se lo faccio perchè tanto a guadagnola può interessare però è così ho pulito tutti i fuochi dove si cucina e nulla ah perchè mi chiedessi ma tu non cucino mai? si che cucino ma non cucino un video? se no io potrei fare l'impiattamento di come ha cucinato mia nonna e io soprattutto ma io cucino le cose che non mi riesci di cucinare io non cucino cose più elaborate perchè lei è fatta così le piace cucinare cose più elaborate e vabbè ci sta e nulla aspettate un attimo che mi... vedo poi la telecamera è distorta o sbaglio io o la telecamera è distorta parecchio ops ok così si e nulla quindi che dire non lo so ragazze in questo caso io di quanto riguarda la mia routine non faccio molto andate dovrei ancora provare quel contorno qua sul braccio sul dorso della mano per vedere un po' se Lancome mi fa una reazione o meno non lo so non ho coraggio ragazzi non ho veramente il coraggio perchè ho chiesto anche sul canale di le cronaca di bellezza se non erro si non mi ricordo il suo vero nome però mi è stato detto che di provarlo sul dorso della mano proverò già proverò niente ragazzi ci vediamo nel secondo momento e adesso vado a... vado a lavarmi la faccia a dopo eccomi qui ragazze ora mi lavo la faccia usando questo prodotto qui della Douglas vedete questo e mi lavo la faccia altrimenti intendevi lavo in un momento quando voi non mi state guardando perché se non in questo passaggio non può interessare nessuno ma vabbè non è vero non è vero non è vero perché si è vero non è vero ma c'è ok grazie dunque ora abbiamo anche la crema è nulla è nulla scusate mi erano tomato di parlare in allora ragazzi sappiamo benissimo si si o no perdonate mi stai tanto mi erano banali ma siamo benissimo ok allora dunque cremina della nivea vedete perché allora vi scena devo comprare ma per adesso vi scelte dove ok me ne metto una bella quantità di crema nivea su tutta la faccia ed eccoci qua no va bene ok bene vedete si vede qualcosa si ok va bene si ragazzi mi sto mettendo tutta la mia faccia bella spalmata e me la faccio assurdire bene faccio un bel massaggino ok perfetto dunque va a posto ora mi le devo le mani anzi no mi le metto anche nelle mani ma questa crema che in mani non fa metto gli occhiali e ci vediamo in camera mia dai aspettate un secondo a dopo e niente ragazzi praticamente mi ha lavato la faccia come avete visto mi sono messa qua in camera per spostarmi qua in camera perché si sta meglio anzi si vedetevi più la luce non so voi ma io mi vedo meglio con la luce a poi gli occhi ed è un po' vabbè sto zitti vabbè e niente oggi la giornata è bellissima una bella giornata ho chiuso la finestra perché ragazzi possono dare muscerini di tutto vabbè a me danno fastidio muscerini ma vabbè mosche e quant'altro quindi nulla ragazze fatemi sapere sotto i commenti nella sezione dei commenti se questo se questo video si sente bene e si vede bene soprattutto non ho messo la ring light perché la ring light non ci sta in questo in questo come dire veramente in questo aiuto in in questo cavalletto perché dovrei prendere una ring light più grossa più grande e piazzarla attaccare incastrandola al cavalletto non mi sembra il caso quindi ho detto no mi arrancio con la luce della finestra tanto è gratis anche se tanto vabbè non la puoi comandare come al tuo piacimento ma finché c'è un sole buono che va da questa parte perché il sole è da questa parte verso destra ed è alto ma non molto sta appena alzando il sole quindi per il momento sta appena alzando non si può sentire comunque il sole non è molto appuntato in alto una piada e mezzo quindi la giornata è fattibile per registrare questo video io l'avrei registrato di sera questo video ma siccome questo video lo voglio registrare adesso lo registro adesso quindi va bene così allora aspettate un secondo un attimo si sta registrando si sta registrando ok allora un attimo solo che voglio vedere se riesco a un attimo ora mi vedete perché ho dovuto un po' abbassare l'inquadratura perché non so se mi vedevate o me eravate un po' troppo alzate su di telecamera quindi vi ho dovuto un po' abbassare perché già io sono non solo dico tanto piccolina ma non sono così stangona sono metro e sessanta più o meno anzi senza più o meno sono metro e sessanta quindi mi devo un po' regolare in base alla mia altezza la telecamera ehm vabbè per fare i prodotti video finiti i prodotti video prodotti finiti appunto li posso anche mettere alzata ma se no viene bene anche seduta tutto lì ho questa telecamera vuole stare un po' ok dunque 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 ok sì è nulla quindi oggi volevo fare un videoblog ma lo sto facendo qua in casa non importa e niente quindi ragazzi mie adesso io vi saluto perché il video è durato anche tanto non so quanto durerà questo video 50 minuti anche no grazie quindi allora io adesso vi saluto vi ringrazio vi ringrazio per l'ascolto perché mi avete visto tutto il video se l'avete visto non lo so e ci vediamo in un prossimo video like commento e attivate la campanella qualora voi siate pronti a iscrivervi al mio canale youtube ciao 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 vi voglio tanto bene siete le mie amiche virtuali che vi voglio tanto bene e grazie ancora di cuore grazie a tutto il supporto e la sopportazione che vi date e ciao buona giornata a tutte e buona continuazione a tutte soprattutto ciao ciao